Dal Transportec di Verona 2019, Stefano Virgilio, responsabile di comunicazione di Opel Italia, ci presenta la nuova Zafira Life. Durante questo Transportec 2019 abbiamo deciso di portare dei pezzi grossi per Opel, c'è infatti l'anteprima italiana della nuova Zafira Life, è un modello che si affianca all'attuale generazione di Zafira, però ne valorizza tutti i punti di forza, perché Zafira Life aumenta nel numero di posti, arriva fino a 9 posti, aumenta come spazio perché è disponibile in tre diverse lunghezze, da 4,60 fino a 5,30 metri e poi aumenta in versatilità, in flessibilità, perché ci sono molte più configurazioni dei sedili che è possibile disporre in vari modi. La versatilità è sempre stato un grande punto di forza di tutte le Opel, ma di Zafira in particolare. Questa Zafira Life, dicevo, diventa ancora più forte da questo punto di vista. È possibile infatti avere diverse configurazioni dei sedili, questa per esempio è molto bella perché permette di avere una seduta faccia a faccia, con due file di sedili posteriori, la seconda e la terza, con un tavolino, quindi è il perfetto mezzo di trasporto da utilizzare come navetta per gli hotel oppure per i noleggi con conducenti, chiunque debba trasportare persone, un numero elevato e cose come i bagagli allo stesso tempo.